benvenuti o bentornati sul mio canale io sono silvia e nel video di oggi scopriremo insieme come realizzare questa magnifica stola elegante ad uncinetto è un progetto semplice veloce adatto anche per le principianti reso particolare dalla scelta del filato che vedremo ovviamente insieme e ovviamente vi seguirò passo passo lungo tutta l'esecuzione del progetto che vedrete vi darà grandissime soddisfazioni in poco tempo andiamo quindi a vedere tutti i materiali di cui abbiamo bisogno e iniziamo insieme il nostro progetto per questo progetto andrò ad utilizzare tre gomitoli del filato led con un filo di lurex a contrasto e micro palette color oro abbiamo un 48 per cento cotone un 52 per cento di poliestere ciascun gomitolo pesa 50 grammi ed ha una resa di circa 200 metri quindi un metraggio molto importante lavorabile con ferri e uncinetto dal numero 3 al numero 4 e andrò a lavorare il tutto utilizzando un uncinetto tre mezzo ricordate sempre di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato scelto il filato che andrò ad utilizzare è un filato multicapo vedete è composto da piccoli fili che vengono poi ritorti insieme per andare a formare il filo principale il mio suggerimento se lo andate a lavorare con un uncinetto particolarmente sottile è di fare molta attenzione a non dividere mentre prendete i punti i vari fili che compongono il filo principale per lavorare il nostro progetto dobbiamo conoscere i due punti base del lavoro ad uncinetto la maglia alta e la catenella questi due punti vengono combinati per ottenere una sequenza di punti che andremo poi a ripetere per tutta la nostra lavorazione in particolare per quanto riguarda le dimensioni del progetto dobbiamo andare ad avviare un certo numero di catenelle questo numero di catenelle dovrà essere multiplo di 8 più una catenella aggiuntiva quindi quando avviate il numero di catenelle di base in base a quanto volete largo o stretto il progetto dovete fare riferimento a questo multiplo in particolare io andrò ora ad avviare 56 catenelle più una catenella aggiuntiva quindi un totale di 57 catenelle se volete una stola più stretta andate semplicemente a togliere contando di 8 in 8 le catenelle iniziali e ricordate poi di aggiungere una catenella alla fine se invece volete la stola più larga andate ad aggiungere sempre 8 punti e alla fine ricordate di aggiungere poi la catenella in più quindi contate le catenelle di base di 8 in 8 e quando avete raggiunto la larghezza desiderata aggiungete la catenella in più alla fine vado quindi ad avviare le mie 56 catenelle che sono appunto multiplo di 8 e aggiungo alla fine una catenella in più quindi un totale di 57 catenelle iniziali completate le 57 catenelle sull'ultima catenella che ho lavorato per aiutarvi a comprendere meglio i passaggi vado a posizionare un marca punti aggiungiamo 3 catenelle in più che sostituiscono un punto alto utilizzando il marca punti come punto di riferimento so che questa è l'ultima catenella del mio multiplo salto la maglia segnata col marcatore vado in quella precedente questa qui e vi lavoro un punto alto posso ora andare a rimuovere il mio marcatore e proseguo lavorando una maglia alta in ciascuna catenella che mi si presenta fino ad arrivare alla fine del giro lavorata quindi una maglia alta in ciascuna catenella che ci si presenta abbiamo completato questo primo giro di bordatura del nostro progetto andiamo ora ad iniziare il primo giro della vera e propria lavorazione che sarà un giro di preparazione al secondo giro giro che poi ripeteremo per tutta l'altezza del nostro progetto iniziamo questo primo giro facendo 3 catenelle che sostituiscono un punto alto dopodiché voltiamo il lavoro sul primo punto disponibile che corrisponde anche all'ultima maglia alta che abbiamo lavorato nel giro precedente ed è anche il punto dal quale nascono le nostre 3 catenelle andiamo a lavorare un punto alto abbiamo detto che le prime 3 catenelle di questo giro corrispondono a un punto alto quindi di fatto abbiamo lavorato due maglie alte nello stesso punto di base dobbiamo ora andare a saltare tre punti sulla base e nel quarto andare a lavorare una sequenza di punti quindi salto una due e tre maglie alte sulla base sulla quarta maglia alta carico il filo sull'uncinetto e lavoro una maglia alta e sempre nello stesso punto altre due maglie alte abbiamo lavorato tre maglie alte sullo stesso punto di base aggiungiamo ora due catenelle di separazione e sempre nello stesso punto lavoriamo una sola maglia alta rivediamo velocemente questi passaggi abbiamo saltato tre punti sulla base nel quarto punto abbiamo lavorato tre maglie alte due catenelle di separazione e una maglia alta sempre sullo stesso punto di base questa sarà una delle sequenze di punti che andremo a ripetere per tutta la nostra lavorazione fatto l'ultimo punto alto realizziamo una catenella di separazione saltiamo tre punti sulla base 1 2 e 3 e nel quarto punto lavoriamo un'altra sequenza carichiamo il filo sull'uncinetto nel quarto punto lavoriamo maglia alta una catenella di separazione una catenella di separazione e una maglia alta sempre nello stesso punto di base quindi dopo aver lavorato la prima sequenza di punti abbiamo fatto una catenella di separazione saltato tre punti sulla base nel quarto punto abbiamo lavorato maglia alta catenella e maglia alta sempre nello stesso punto di base queste due sequenze di punti corrispondono a un blocco che dobbiamo ora andare a ripetere per tutto questo giro senza fare nessuna catenella di separazione saltiamo 3 maglia sulla base 1 2 e 3 e sulla quarta ripetiamo la stessa sequenza di punti entriamo nel quarto punto e lavoriamo 3 maglie alte 2 catenelle di separazione e una maglia alta sempre nello stesso punto di base aggiungiamo una catenella di separazione saltiamo 3 punti sulla base 1 2 e 3 nel quarto punto lavoriamo maglia alta catenella e maglia alta nello stesso punto questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo primo giro senza fare nessuna catenella di separazione salteremo 3 punti sulla base nel quarto punto lavoreremo 3 maglie alte 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto catenella di separazione saltiamo 3 punti sulla base nel quarto punto lavoriamo maglia alta catenella e maglia alta senza fare nessuna catenella di separazione andremo a ripetere gli stessi passaggi fino ad arrivare alla fine del giro che vediamo poi insieme come andare a completare quando arriviamo alla fine del giro davanti a noi abbiamo questa situazione abbiamo lavorato il blocco di punti composto da 3 maglie alte 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto e ora davanti a noi abbiamo 3 punti alti e 3 catenelle qui sulla nostra sinistra per concludere questo giro saltiamo le 3 maglie alte che ci si presentano e andiamo sulla catenella più in alto in quest'ultima catenella lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto quindi carico il filo entro nella catenella più in alto e lavoro una e due maglie alte nello stesso punto completato il primo giro di lavorazione questo sarà risultato un aspetto molto importante che ci tengo a sottolineare perché da questo dipende anche la buona riuscita del punto dopo aver lavorato 3 maglie alte 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto ricordate prima di passare a lavorare il modulino successivo che qui c'è sempre una catenella di separazione quindi lavorate 3 maglie alte 2 catenelle e una maglia alta saltate i punti sulla base fate una catenella di separazione e poi lavorate maglia alta catenella e maglia alta nello stesso punto fatto questo dobbiamo poi andare a ripetere gli stessi passaggi dopo maglia alta catenella e maglia alta non dovete fare nessuna catenella di separazione andate direttamente a lavorare le 3 maglie alte la catenella di separazione è solamente tra 3 maglie alte 2 catenelle e una maglia alta catenella maglia alta catenella e maglia alta nello stesso punto ricordate quindi sempre di fare questa catenella prima di passare a lavorare questo mini modulo i passaggi del secondo giro di lavorazione sono quelli che andremo poi a ripetere per tutto il nostro progetto e sono molto simili a quelli che abbiamo appena fatto in questo primo giro iniziamo sempre con le nostre 3 catenelle che sostituiscono un punto alto voltiamo il lavoro e nel primo punto disponibile quello dal quale nascono le 3 catenelle andiamo a lavorare un punto alto davanti a noi ora abbiamo il modulo che abbiamo lavorato nel giro precedente ovviamente ribaltato abbiamo infatti maglia alta 2 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto dobbiamo lavorare il modulo del giro precedente nello spazio creato qui dalle 2 catenelle quindi carichiamo il filo sull'uncinetto passiamo sotto le 2 catenelle in questo modo prendiamo il filo e lavoriamo 3 maglie alte 2 catenelle di separazione e una maglia alta sempre all'interno dello spazio dopo la maglia alta sappiamo che dobbiamo sempre fare una catenella di separazione e davanti a noi ora abbiamo maglia alta catenelle e maglia alta che abbiamo fatto nel giro precedente dobbiamo ripetere questo mini modulo passando sotto alla catenella che abbiamo fatto qui tra le 2 maglie alte quindi andare a lavorare all'interno di questo spazio carichiamo il filo sull'uncinetto passiamo sotto la catenella all'interno dello spazio e ripetiamo gli stessi passaggi maglia alta catenella e maglia alta all'interno dello spazio questo sarà il risultato e sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo giro passiamo al modulo successivo e in questo spazio lavoriamo 3 maglie alte 2 catenelle di separazione e una maglia alta sempre all'interno dello spazio in questo modo catenella di separazione in questo spazio tra le due maglie alte lavoriamo maglia alta catenella e maglia alta proseguirò quindi ripetendo la mia sequenza di punti all'interno di questo spazio mi sposterò poi a lavorare qui maglia alta catenella e maglia alta ricordiamoci sempre la catenella di separazione e ripeteremo questi passaggi fino ad arrivare alla fine del giro che andiamo a concludere insieme alla fine del giro abbiamo lavorato la nostra solita sequenza di punti nell'ultimo spazio disponibile e non ci resta che fare una catenella di separazione e davanti a noi abbiamo una maglia alta e 3 catenelle che sostituiscono un punto alto andiamo sulla terza catenella quella più in alto e al suo interno vi lavoriamo due punti alti in questo secondo giro abbiamo sostanzialmente ripetuto le stesse sequenze di punti che abbiamo visto nel primo semplicemente le abbiamo lavorate all'interno degli spazi che abbiamo generato con le catenelle di separazione una nota importante lo vedete già guardando questi due giri la sequenza composta da maglia alta catenella e maglia alta cade sempre sopra precisa al centro della sequenza maglia alta catenella e maglia alta che abbiamo fatto nel giro precedente quindi mano a mano che saliamo con i nostri giri queste sorte di punti v maglia alta catenella e maglia alta cadranno sempre uno sopra l'altro mentre la nostra sequenza 3 maglia alta e 2 catenelle e 1 maglia alta va a generare dei ventagli che mano a mano che cresciamo col nostro progetto si ribalteranno in orizzontale ogni volta che cambiamo un giro se notate qui lo spazio delle due catenelle rimane a destra qui rimane a sinistra poi sarà di nuovo a destra sinistra a destra e così via vi ripeto poi che ogni giro inizia e termina sempre con due maglie alte lavorate sull'ultimo punto disponibile che sarà sempre la terza catenella più in alto delle tre catenelle che compongono l'ultimo punto non ci resta quindi che andare a ripetere gli stessi passaggi che abbiamo visto in questo secondo giro giro dopo giro finché la nostra stola non avrà raggiunto la lunghezza desiderata dopo diversi giri di lavorazione questo sarà il risultato ho raggiunto circa un metro e sessanta di lunghezza della mia stola utilizzando solamente tre gomitoli di filato che avevamo già visto avere un metraggio molto importante l'effetto lo potete vedere è particolarissimo ve lo faccio anche vedere più da vicino guardate come brilla e luccica il nostro progetto sia grazie al filo a contrasto in lurex ma soprattutto alle mini paliette incorporate all'interno del filato per completare il nostro progetto non ci resta altro da fare che andare ad eseguire un giro di maglia alta qui nella parte superiore che vada a richiamare lo stesso giro di maglia alta che abbiamo fatto all'inizio del nostro progetto iniziamo il nostro giro sempre con le nostre tre catenelle e andremo a lavorare una maglia alta su ciascuna maglia alta mentre per gli spazi generati dalle catenelle procederemo in questo modo fatte le tre catenelle sulla maglia alta seguente lavoriamo una maglia alta andiamo direttamente sulla prima maglia alta che ci si presenta e vi lavoriamo una maglia alta singola nello spazio delle due catenelle lavoriamo una sola maglia alta lavoriamo una maglia alta sulle tre maglie alte che ci si presentano lavoriamo poi direttamente una maglia alta sopra la prima maglia alta singola nello spazio della catenella lavoriamo una sola maglia alta e una maglia alta sulla maglia alta singola e ripetiamo direttamente maglia alta su maglia alta saltiamo quindi questa catenella una maglia alta nello spazio maglia alta su maglia alta nello spazio qui al centro un solo punto alto maglia alta su maglia alta saltiamo questa catenella e di nuovo maglia alta su maglia alta nello spazio una sola maglia alta e così via fino alla fine del giro dopodiché non ci resta che bloccare il filo all'interno del lavoro e il nostro progetto è completato siamo quindi giunti alla fine di questo luminoso e oserei dire scintillante video tutorial che spero abbiate trovato utile e soprattutto di ispirazione abbiamo visto come con pochi e semplici passaggi possiamo andare ad ottenere una stola molto elegante ma questa stessa lavorazione possiamo anche utilizzarla ad esempio per una semplice sciarpa cambiando semplicemente la tipologia di filato perciò se questo progetto vi è piaciuto vi invito a farmelo sapere con un bel pollice in su un commento proprio qui sotto il video e vi invito ovviamente se vi va a iscrivervi proprio qui sul mio canale per non perdervi tutti i miei prossimi video tutorial perciò io con questa splendida stola vi saluto vi auguro come sempre buona creatività e vi aspetto in un prossimo video sempre qui sul mio canale youtube a presto 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 a presto